L'amministrazione comunale di Capaccio Pestum, nella giunta del 23 ottobre, ha deliberato la creazione di uno sportello per l'immigrazione. Il Consiglio, presieduto dal sindaco Affieri, ha reso subito esecutiva questa decisione per via della sempre più numerosa popolazione straniera presente in città, che conta 2.900 stranieri fra comunitari ed extracomunitari, più un numero molto elevato di clandestini su 23.000 abitanti totali nel comune capaccese. Gli immigrati non sono solo braccia da lavoro, ma persone a cui vanno riconosciuti pari diritti e dignità. Quest'amministrazione intende avviare un confronto pacifico, civile e democratico sugli aspetti legati alla vita quotidiana di donne e uomini e rispondere in modo concreto alle richieste dei cittadini stranieri, fanno sapere da Palazzo di Città, e rispondere in modo concreto alle richieste dei cittadini stranieri. Queste sono le parole dell'aggiunta comunale, che ha votato in modo favorevole all'unanimità questa delibera e presto verranno attuati gli adempimenti necessari ad avviare lo sportello.